Ciao ragazze, ciao ragazzi, di nuovo ecco qui un altro video Trollbeats e questo è il video di sequenza all'altro che avete già visto. In questo video vi voglio parlare di due argenti che ho preso ultimamente. Una è una chiusura molto molto bella e l'altro invece è un argento che io guardavo già da un po' e mi piaceva tantissimo. Alla fine ho ceduto, sono caduta nella trappola e quindi l'ho preso, mi piace tantissimo. Comunque adesso parto subito con questo argento, vi faccio vedere un argento molto semplice, molto dedicato, però mi piace veramente veramente tanto. Eccolo qui, è un argento abbastanza cilindrico come potete vedere, però sono tutti i cuori, vedete, in contrapposizione uno all'altro. Scusate, ve l'avvicino un pochino di più perché altrimenti così si perde un po' la bellezza dell'argento. Un attimo solo, ecco qua, vediamo se sono riuscita. Sì, perfetto. Allora vi volevo far vedere una cosa di questo argento, poi ve ne parlo un pochino meglio dell'altro. Ma perché non metta a fuoco? Che problema ha? Non lo mette a fuoco, ecco qua. Allora, questi sono dei cuori, come potete vedere, che nella parte sopra sono tutti direzionati con la punta, diciamo, verso l'alto, mentre nella parte sotto sono speculari, ma rigirati, come potete ben vedere, verso il basso. Ora, la sequenza del cuore si armonizza direttamente con la sfera, lo vedete, e si collega con l'altro cuore, cioè praticamente questo cuore è collegato a questo, è collegato a questo, poi questo è collegato a questo e viceversa. Diciamo che fanno parte tutti di un unico movimento e la cosa che mi è piaciuta è che in qualsiasi direzione voi lo mettiate si può vedere sempre la linea del cuore. Molto molto bella, non dà fastidio qui nella parte delle punte del cuore perché, come vi ho detto poc'anzi, si armonizza, lo vedete anche nella parte, diciamo, così, di profilo, si armonizza sia sopra che sotto, è molto molto bello. Fammelo mettere al via, un attimo, eccolo qua. È veramente molto molto bello. Questo messo su un bracciale molto particolare, dà un tono molto particolare, pur rimanendo quasi trasparente perché quello che identifica questo charm sono semplicemente le linee che delineano questi cuori in contrapposizione, che poi la figura base è questa, vedete? Sono questi due cuori che si uniscono fra loro, molto bello, è romantico come argento e mi piace tanto, nella sua semplicità mi piace tanto. Questo argento può essere anche utilizzato per la collana perché potete far passare la collana con tutte e due le linee qui dentro questo foro e poi farlo uscire dove volete, insomma, come bracci, no? Quindi si può tranquillamente utilizzare come distanziatore. Bello, proprio bello, bello, bello. Mi piace, mi piace la sua semplicità, la sua armonia, la sua simmetria. Lo trovo molto adatto anche per un ragazzo, un po' romantico magari, perché ha le linee definite ma non troppo, romantiche ma non troppo. Quindi mi piace, mi piace molto. Bello, io lo volevo far vedere su un bracciale. Aspettate che lo tiro fuori, qua non è facilissimo. Eccolo. Andiamo. Su un bracciale di questi, che sono quelli di pelle. Perché, appunto, io l'avevo pensato proprio per un discorso su un bracciale di pelle. Visto che è così trasparente, ecco là che sto a sbagliare. Visto che è così trasparente, secondo me, si poteva evidenziare. Ecco, vedete? Guardate quanto è bello su un bracciale di pelle, magari colorato. Io adesso il colore più acceso che ho, se non sbaglio, è questo azzurro. Qui che cos'è? Grigio. Altrimenti ce l'ho in blu. Ma io non ce l'avevo pure arancione. Ce l'ho in nero. Ah no, c'è pure questo. Questo è nuovo. Ma è uguale? No, è diverso. No, su questo pure mi piace tanto. Ma guarda che brutto che si vede. Ecco. Scusate, eh, ma... Su questo mi piace veramente, veramente tanto. Questo è nuovo, questo bracciale. Guardate che colore favoloso. Questo non ve l'avevo ancora fatto vedere. Il classico bracciale in pelle con le doppie, con la doppia striscia, diciamo. Questi sono i fori per le chiusure e questi sono le due asoline per l'altra chiusura. E vi volevo far vedere questo perché, secondo me, ci stava benissimo. Vediamo un po'. Poi mi dite anche voi, eh. Però secondo me ci sta bene. Cioè, è troppo carino. Guardate. Anche questo... È troppo carino. Vi piace? A me piace tanto. Perché si muove, con il movimento si intravede il colore sotto. Ma nello stesso tempo dà luce. Bello. Questo argento mi ha conquistata nella sua semplicità. Il significato di questo argento che si chiama... Adesso ve lo dico subito, un attimo solo, eh. Dove l'ho messo il libro? Ecco, eccolo. Allora. Io ci avevo già tutto predisposto. Allora, quest'argento si chiama equilibrio degli opposti. Gli opposti sono i due cuori, una sopra, una sotto, probabilmente. E l'equilibrio sta proprio in questo. Cioè che uno dà spazio per l'altro senza lasciare vuoti d'aria e così via. Mi piace questa cosa. Come significato, molto sintetico, Trorbitz dà. Gli opposti si attraggono. L'attrazione probabilmente la vede nella stecchetta, diciamo, di argento che accomuna i due cuori, quindi le due metà. E forse, dice, gli opposti si attraggono per questo motivo. Comunque, a parte tutto, come argento mi piace veramente, veramente tanto. Bello. Bellissimo. Ora, passiamo oltre. Vi avevo detto che l'altro argento che mi piaceva e che ho acquistato ad agosto era una chiusura, è stata una chiusura. Una chiusura che io ho cercato per tanto tempo, ma io adesso vi vorrei cercare anche qui però il significato. Prima di farvela vedere. Sì, eccola qua. Ok. E lei? Ve la presento. Eccola. Io l'adoro. È bellissima. L'ho cercata tantissimo. Questa ovviamente è un ritirato. No, ve la devo, questa non può essere vista così. No, no, questa l'ho vista diversamente. E adesso ce la coccoliamo tutta. Allora, è ovviamente una chiusura con forma perpendicolare, come sappiamo. Vedete che ha la parte grande qui, dove vanno inseriti appunto gli anellini più grandi del bracciale. E la parte qui, che è quella più piccolina, dove vanno inseriti, questa si apre così, la parte più piccola del bracciale. Per chi non lo sa, vi mostro un bracciale. Per chi non lo sa, questa è la parte più grande del bracciale, che va inserita appunto nella parte grande. Questo, ecco, è l'anellino più piccolo. Questo, però, l'ho inserito male, perché la catenina io solitamente la metto qua. Mmm, bocciata. Vabbè, e questo è l'anellino più piccolo che va inserito nella parte più piccola. Questo era giusto per chi magari non, dov'è, non ha dimistichezza ancora. Poi farò un video, già ne ho parlato anche con una mia amica, farò un video dove appunto descriverò meglio il discorso Trollbeats. Eccolo qui. Allora, questa bellissima chiusura, ricercatissima, meravigliosa, mamma mia, tanto, tanto desiderata, si chiama la chiusura Tempio Sacro. E adesso vi leggo, vedete, io ho tutto qua. Guardate, guardate, guardate. Con il post-it, tutto quanto, eccola qui. Vabbè, vabbè. Cade tutto, aiuto, no, lo sapevo. Ah, andata. Comunque, vi leggo. Il tuo luogo sacro, pervaso dall'armonia, ti spinge alla spiritualizzazione e alla trascendenza. Vabbè. Così dice il signor Trollbeats. E noi, chi siamo per dire? Non è vero. Comunque, no, a parte gli scherzi. È molto bella. E voglio trovargli un bracciale che raccolga un po' questo discorso del tempo e delle parti spirituali sacre. Mi piace, mi piace tantissimo. Lo adoro. Bella, bella veramente. Ora, come sappiamo, abbiamo superato i dieci minuti. Quindi io vi vorrei far vedere un altro bid di corsa, di corsa, ma proprio dico di corsa, che non vi ho fatto vedere prima. E ve lo metto direttamente qua. E poi faremo altri video con altri bid. Intanto ve lo faccio vedere proprio velocemente. Il bid in questione è lui. Eccolo qui. Lo conosciamo? Una leprottina e una tartarughina. Una tartarughina e un'altra leprottina. Eh, che cosa avranno in comune? Che cosa avranno? Probabilmente qualcosa che ha a che fare con il tempo. Che ne dite? Una va veloce veloce e corre e l'altra va lenta lenta. Qui c'entra qualche cosa la... Aspetta, com'era? La leggenda di... Oddio, mo' dico una fregnaccia perché io sinceramente... Aspettate, eh! La prendo che faccio prima. Perché dovete sapere che prima ho letto il significato e ho detto Ah, è così? Ma io non lo sapevo. E adesso però ve lo leggo. Allora, il bid così com'è si chiama semplicemente la lepre e la tartaruga. La lepre e la tartaruga era anche una fiaba non so se ve la ricordate aspettate che ecco se no non metto a fuoco. La lepre e la tartaruga era anche una fiaba molto bella molto famosa nei miei anni perché praticamente dava il senso di una moralità sinceramente abbinata a un discorso di intelligenza di furbizia anziché di capacità e velocità insomma. Detto ciò però Trollbeats la interpreta diversamente. Dice ricordando la favola di Esopo sì, credo che si dica Esopo non so probabilmente è proprio quella lì in cui la tartaruga vinse la gara di velocità sorpassando la lepre vuole essere un tributo esatto alla capacità di saper usare l'intelligenza nelle difficoltà è para para quella che dicevo poco anzi e quindi sì è questa questa fiaba molto molto bella molto bella mi piace tanto è fatta anche molto bene la lepre la leprottina con queste orecchie lunghissime e anche la tartarughina fatta molto bene sul suo carapace molto dettagliata anche il volto vedete la tartaruga sorride già c'ha la vittoria in pugno furbetta vabbè vabbè molto carino questo qui ve lo volevo far vedere ecco qui c'è la punzonatura perché non lo so prima vi stavo facendo vedere un altro video si è interrotto il video mi ha mandato all'area tutto quanto il video quindi pazienza l'ho voluto rifare iniziando appunto da quegli altri due argenti ma questo ce lo volevo inserire perché mi piace veramente tanto ditemi se siete d'accordo iscrivetevi qui al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e anzi per divertirci un pochino insieme con altri altri acquistini ce ne ho tanti come già sappiamo ho anche dei vetri di Trollbeats che vi faccio vedere giusto al volo eccoli qua acquistati sempre in questi periodi e non so perché ma a me questi periodi evidentemente stimolano comunque diciamo che questa ve la volevo far vedere in questo video non vi volevo lasciare senza questa chicca bellissima mi piace tantissimo questo è molto bello è anche abbastanza pesantino bello allora ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao